in questo nuovo video quale avrete su sbets francesco per standa youtube allora raga siamo ritornati su brawl stars dopo tantissimo tempo aspetta un attimo ok aspetta un attimo e oggi ci operiamo il pass tanto tempo brawly food spenderemo la raga duro allora andiamo siccome mancava poco poi se ci mancano gemme ci prenderemo grom no brawler è mitico beh ragazzi io vado io ci faccio 169 perchè c'è la stessa cosa beh ragazzi 169 allora 3 2 1 preso no non ci rimangono gemme oddio ragazzi posso prendere l'oda ok allora iniziamo da b800 preso 25 punti stellari che io ti faccio scegliere e voglio non voglio mangiarmi proprio tutti allora questa è la missione di trovare fendi fendi si raccassi infendi fendi vengono in brawler non voglio voglio fare come quella volta che ci ho fatto tipo no che so fai scelto fa no sto colorando io non voglio fare se non faccio come quella volta se voglio 35 sempre non so di 35 no 34 vabbè e non voglio fare come l'altra volta che ho trovato gelindo io gelindo lo voglio no già ce l'ho gelindo io voglio pure un altro brawler qua beh andiamo con la meca cassa e poi io sei schifo raga sei schifo non mi viene messo un brawler no raga mi sa che un gadget mi sa che un gadget oddio raga al mio 3 apro c'è oddio mio raga al primo colpo al primo colpo non è possibile allora al mio 3 apro 3 2 1 riparata 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 c'è raga lo sapevo io lo sapevo benissimo il gadget adesso facciamo scelvi di nuovo così almeno la potenziamo non lo voglio potenziare cassa enorme oh raga skip skipetto luminoso allora al mio 3 al mio 3 apro raga adoro perché sto box opening oggi al mio 3 apro 3 2 1 no già raga non mi arrabbio ma perché solo star power e come si chiama e gadget non è possibile devo trovare un brawler raga giusto non lo trovo da settembre agosto non è vero da da novembre va bene ma il pacchetto di reazione vediamo che ci esce ok 50 cassa enorme vediamo un po ma va bene normale non ci escerà mai ma è uno scripito allora poi guarda ragazzi no io lasciare qualche cassettino di roma fasse non la con una bassa e poi pure una bassa enorme che rimane qua così me la apro più c'è la propria quando tipo finisce il questo brawler passa perché tanto ce le farà aprire che questa non la lasciamo ci prendiamo c'è lì poi questo no ma che ho fatto ok 75 punti così qua punti energia punti stellari se non posso prendere l'allora perché non posso prendere questo perché dice devo prendere prima l'allora allora raga almeno 3 prendo l'allora 3 2 1 ho presa raga l'ho presa che ho fatto l'ho presa no pure la reazione di lola è una cassa enorme tanto non mi uscirà niente infatti che questo è che pianghi è la mia cassa 3 2 1 ma raga ma che cos'è oggi ma raga ma è un bug raga non è possibile 177 di monete raga se mi esce un altro gadget o punti stellari o come si dice un abilità stellari veramente proprio c'è un abilità che non è possibile ok c'è un abilità che sono impazzendo ma mi ma per pa... no raga, Ash! Ash! Otro rosso! Oddio! Ma io adoro, raga Ash! Che è? Ah, vinci qui! Eccola l'oletta! Quattro cose? Vabbè, poi proviamo pure i gadget Oddio, raga, eccoli! Io volevo, volevo prendere pure un agromo, non ce la faccio a vedere E guardate, vi faccio pure così, così potete capire, guardate, Lola e Ash! Allora, voglio provare prima Lola e poi Ash Allora, tengo due cose che queste, ovviamente, queste due me le voglio lasciare Ah, raga, ci c'è pure una skin bellissima Tipo, pure queste skin 69 gemme boh 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 di Natale Questa, che l'hanno scontata Poi questa, no, l'hanno scontata Beh, Frank, non posso questa, non posso così Cioè, questa, raga, è bella, perché comunque, cioè, costa pure di meno, quella che costa di meno Questa, però, no, raga, mi sa che c'è uno Tipo questa, guardate che carina sta skin, gelinger schiacciandoci Però, non manco ce l'ho, le gemme per comprare stasini Pam, da spiaggia, pure bella, vabbè, non mi interessa, non sti... Allora, andiamo Non voglio andare, andiamo in fondo Raga, sono stracontenti Eccomi, raga, ovviamente non mi metto l'immagine di Lola Perché, comunque, di Leon, del mio brawler preferito Oddio mio Raga, questa sicuro la devo vincere Perché la prima, citavo di un nuovo brawler Sicuro la vinco Sì, sa, è normale Però la vinco sono file, non file Quindi, però, non tengo Sarà, ma per solo due emoti Per me di... Ok È bella, mi piace un botto la super di... Madonna, raga, mi lagga, però... E non mi piace che mi lagga Oddio, il clone Ok, oddio che raga, è stranissima Così di tipo, qua vicino Me la tengo vicino Che raga hanno segnato Scusate, ho messo un'ottima pausa Che sbaglio Ok Ho messo qua la palla Così non segno Lo faccio sempre così Aia, 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 aia 38 di vita Grazie È normale che muoio No, segno Stavo per segnare Va bene Ok 38 di vita Oddio Muori Se me la metto sempre là Madonna mia Ma che è possibile Muoio sempre Non vinciamo Perché comunque Omo segnano No No, no, no Vabbè, bandica Ho vinto la partita Si sapeva Adesso mi faccio La partita con Ash Bellissimo Allora voglio Cambiare Mi piace troppo questa Pure questo Vorrei che Poi Questi Dai Ok Andiamo Voglio fare una sopravvivenza In due Vediamo un po' La vengo Ma Seguro Ma Che guarissimo Eh No La perdo Che carine Le nuove Le moti Donne È un po' Difficile Giocare con Ash Perché poco La connessione Che tengo Normale Bella Le moti Madonna mia Madonna Meno male Lalo è morto Oddio Bravo Bravo Che hai detto Soste Modi Adoro Muori Abbiamo fatto Scontro finale Doverà Arrabbiare La potenza Di arte Non ho messo Stono No 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 Perché ho Giampato No Ok Ho lanciato La fusa Oh Non morire Ok Lo sapevo Che vingevo Si sapeva Mamma mia Quanti gettoni E' arrivata Soia 40 Perché Così Io Guardavo Mi ricordare Quando Tipo Spoccato Ma Questa È La Sera Ah Bad Tutte Due Gadget Ma Mai usate Sti Gadget Mai Io Mai Usate Perché Io Tipo A Tarano Lo Uso Quasi Ma Quasi Mai Tipo Come Dio Lindo Che Che Scream Ci Possiamo Prendere Perché C'è Comunque Stanno Bocchi Di Tipo Offerta Speciale Brawler Mitico Casuale Pure Buona Offerta Però 15 Euro 15 Euro Troppo Per Un Brawler C'è Credo Che Tanno Un Brawler Tutti Quei Brawler Mi Non Credo C'era Che Due Promatici 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 Pratici Pratici Non Mi Piacciono Veramente Mi Piace Solo Questa 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 Costa Pure Di Più Ci L'hanno Scontata A 99 Gem Qua Costa 149 Gem Per Questa 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 Mi C'è 998 Monete Madonna Se Scrive Qua In Però Eh Pratici Questa Bellissima Però Non C'ho Frank Non C'ho Frank Però Ci Dico Rata Bellissima Sì Pazzo Dinero Spero Pure Questa Per Me Più Bella C'ho Buon Buon Natale Buon Natale Però Non So Se Prendete Solo Quattro Stim Solo Questa E Solo Quella Di Frank Delle Feste E Questa Qui Griffo Svita Perché Non Do Il Brawler Dai Ragazzi Facciamo Un'altra Partita No Cavolo Sto Video Dura Poi Ah C'è Papà L'anzione Con Dola Dai Facciamo C'era Una Andiamo In Due L' L'ho Provato Solo Una Volta L' Allora Ci mettiamo Il Brawler Allora Ci mettiamo Ad Ash Astotizio Sconosciuto Poi Credo Due Asce Di Ma Dai Ma Non Posso Due Asce Mi Metta Sei Mio Dai Ma Sono Bot No Non Sì Sono Bot Sono Un Po Sì Impatta Madonna Mi Ragazzi Tengo Pochissima Alta Aiuto Ahia Non ti permettere Ho paura Tengo 844 Di vita No Va Ma Perché Ce l'hanno Beh Ragazzi L'hanno Bece Questo Non è Ok Adesso Il rumore Di sottofondo Di sottofondo Ma che è Sto Stavo Non è Non è Sento Di Ah Questa Sicura Di Nuovo Di Nuovo Questo Deve Comunque Ve lo Ripeto Di sottofondo Non posso Fai Niente Mortis Mi Da Ve Lo Faccio Adesso Ascio No Sempre Sempre Se Mi Vabbè Stacco Un attimo Il video Ti metto in basso E vi faccio Sapere Che ho Vinto Do Ragazzi L'ho Persa Vabbè Cioè L'ho Persa Lo Capito Ma Non ci Perdo No Che sta Dormendo È Morta Non Mai Visto Allora Ci sono Sbloccata La Petra Oppure Di Lola Bella Caffe Enorme Vediamo Un po Niente Vabbè Sblocca Abbassa Duelli Veramente Basta Vittimamente Una Cosa Cazzo Cioè Vabbè L'ho 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 Mettere Questa Così Poi Quando ci sblocceremo Cioè Raga Sto Pass Credo Me la Sento Di Finito E Vabbè Raga Questa E La Figlia Cioè Guardate Ho Trovato Ho Trovato Ash E Poi Mi E Allora E Vabbè Ragazzi Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina Per essere sempre aggiornati E Ciao 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 Grazie a tutti.